Benvenuti ragazzi anche quest'oggi su Tech con Android ecco qui come potete vedere quello che in realtà era il contenuto del nostro pacco che vi ho fatto vedere appunto attraverso le storie di Instagram ovviamente non vi dico altro ma continuateci a seguire sempre anche sul social di Instagram dove potete avere delle anteprime riguardo a quelli che sono i prodotti che ci stanno arrivando e quindi che andremo poi a testare ma andiamo subito a quella che è la confezione di questo che è stato uno dei protagonisti più importanti di questa che è stata la fiera catalana che da poco si è conclusa ossia il Mobile World Congress 2019 e sto parlando appunto di Xiaomi Mi 9 andiamo subito ad aprire quella che è la confezione del dispositivo vi faccio vedere un po' quello che è il contenuto e vi do quelle che un po' sono le prime informazioni riguardo le specifiche del dispositivo e quindi sostanzialmente andiamo a dare uno sguardo in attesa di quella che poi sarà la recensione completa di appunto Xiaomi Mi 9 intanto vi dico che è molto gradevole la confezione che ha una colorazione cangiante come potete vedere il simbolino rosso che specifica il fatto che si tratta della versione globale prima differenza vi dico che la versione globale rispetto a quella cinese ha la banda 20 a differenza appunto di quello che era stato invece con Mi 8 che era sostanzialmente disponibile anche diciamo sul mercato cinese con la banda 20 ma andiamo subito ad aprire la confezione e voilà mettiamo da parte il coperchio molto carina la prima parte design by Xiaomi e andiamo ad aprire subito per farvi vedere quello che c'è all'interno abbiamo l'adattatore da Type-C a jack da 3.5 mm perché appunto il Mi 9 non ha l'ingresso per il jack da 3.5 mm per le cuffie e la graffetta per l'estrazione della sim e abbiamo all'interno una coverina che andiamo a vedere un attimo dovrebbe essere una coverina di colore fumé non vi ho detto che è la variante che è in vendita ora sul mercato eccola qui molto carina morbida in t più leggera e poi abbiamo alcuni diciamo manualetti di istruzione per quanto riguarda la garanzia e la user guide del Mi 9 mettiamo un po' il tutto da parte e andiamo a dare uno sguardo più ravvicinato a quello che è il dispositivo che per il momento appoggio lateralmente e vi faccio continuare a vedere quello che è contenuto all'interno della confezione abbiamo un caricabatterie rapido vediamo anche quella che è un po' l'uscita vediamo è ben incastrato intanto vi faccio vedere che c'è il cavo anche questo veramente incastrato ok un cavo USB Type-C che mettiamo anche questo da parte e poi abbiamo il caricabatterie speriamo di riuscirlo ad estrarre dalla confezione comunque vi dico intanto che il device supporta la ricarica rapida Qualcomm Quick Charge 4.0 ed è dotato anche di ricarica wireless una delle più rapide attualmente sul mercato che raggiunge i 20W bene il caricabatterie non vuole uscire dalla confezione cercherò di farlo mettiamo questa confezione da parte e vi faccio vedere questo che è Xiaomi Mi 9 molto veramente molto molto bello la colorazione che vi ho detto è la piano black andiamo a eliminare quelle che sono le pellicoline che troviamo appunto sulla parte posteriore veramente tutto incollato proprio anche troppo bene allora iniziamo con la pellicolina frontale che andiamo a levare eccola qui andiamo ad accendere il dispositivo e andrò a fare quella che è una prima configurazione intanto vi parlo un po' di quella che è la disposizione dei tasti sul lato destro troviamo il bilanciere del volume il tasto di accensione e spegnimento sulla parte inferiore troviamo praticamente microfono USB Type-C e altoparlante di sistema mentre sulla parte laterale sinistra abbiamo un nuovo tasto che è presente diciamo su questo Mi 9 che permette di attivare l'assistente Google lo slot per l'inserimento della doppia SIM non è presente l'espansione di memoria e invece sulla parte posteriore abbiamo il secondo microfono per la soppressione dei rumori ambientali e abbiamo il ricevitore a infrarossi per comandare il setup box per quanto riguarda la parte posteriore come vedete è molto bella questa finitura piano black cerco un'altra volta eccoci qua di levare questa etichetta fastidiosissima eccola qua siamo riusciti a levarla e abbiamo poi il modulo a semaforo della triplo camera con un sensore da 48 megapixel un sensore telefoto 2x che serve anche per la profondità di campo e quindi per la modalità portrait e poi novità interessantissima abbiamo una fotocamera grandangolare da 16 megapixel con apertura f2.2 e un'apertura di ben 117 gradi bene vado un attimo a configurare il dispositivo vi dico qualche altra informazione e poi dovrete attendere un pochettino per quella che è la recensione completa di questo Xiaomi Mi 9 ed eccoci qua ragazzi effettuata la prima configurazione per quanto riguarda lo Xiaomi Mi 9 che vedete qui nelle mie mani vi do qualche piccola informazione tecnica poi ovviamente tutti i dettagli li vedremo all'interno di quella che è la recensione completa un'altezza di 157,5 mm larghezza 74,7 uno spessore di 7,6 ed un peso di 173 grammi devo dire che in mano sembra molto leggero ma allo stesso tempo veramente anche solido e ben costruito frontalmente troviamo un display AMOLED da 6,39 pollici diagonali risoluzione Full HD Plus ricoperto da Corning Gorilla Glass 6 il display inoltre ha il supporto alla riproduzione dei contenuti video in HDR10 per quanto riguarda invece la connettività come vi ho detto la versione globale ha anche la banda 20 troviamo il Wi-Fi ABGNAC Bluetooth 5.0 GPS a doppia frequenza e una batteria integrata e non rimovibile da 3300 mAh che vedremo come si comporterà all'interno della nostra recensione completa bene penso che per il momento sia tutto per questo unboxing fatemi sapere ovviamente nei commenti se volete sapere qualcosa nello specifico quando andrò a effettuare la recensione completa e ovviamente non dimenticatevi di attivare la campanellina seguirci ovviamente sul nostro canale YouTube e iscrivervi se non l'avete ancora fatto e ci vediamo presto sempre qui con Roberto e ovviamente con questo interessantissimo Xiaomi Mi 9 a presto sempre qui su Tecno Android